Ancora il consegnato di Landy, l'arica attacca l'alto proprio per Landy, si sbaglia, il tappo in una buona di Cosa di Ravenna, il tappo in una buona di Cosa di Ravenna, si torna fuori da Givens, mancato l'anticipo da Roderick, la categoria sicuramente tra gli americani che negli ultimi anni hanno spostato maggiormente, intanto un'ottima circolazione di Ravenna, su Natali che può entrare in area, riaprire per un ottimo tiro dall'angolo di Rush, che non entra, due ottimi tiri per entrambe le squadre, di Ravenna è entrato, mentre Rush ha fallito, adesso trova James ad approfittare del matchup contro Rodriguez, che gli concede diversi centimetri, canta Nestro, tira, si va in posto a Landy, contro Simeone, buona difesa di Simeone, va a forzare il tiro nel traffico Landy, sbaglia, il rimbalto di Ravenna, che corre in transizione, se i negri trova James per la piccola, in transizione, è un ottimo tiratore Landy, non gli entra, in questo caso il tiro da una buona giornata, si usa quello di Maspero, poi si va in angolo da Cisani, abbiamo un buon tiro da 3, il tiro a 3, è un intero fatto, prende il tiro in peri d'Away, è un canestro che può mettere, ma lo sbaglia, rimbalto di James, ma lo ha superato da Forlì, Rush in contropiede, porta un tiro, lo sbaglia, buona difesa di Ossilia su questo contropiede, Adesso è Ravenna che prova a correre, poi De Negri invece rimette a posto giustamente i suoi, Simeone spinta il blocco, poi va a bloccare invece per James, Rizzolo di James, Rush in contropiede, di nuovo con Ossilia Premaker, Cinciarini, bravo di nuovo a battere l'uomo, sbaglia però il canestro centrale, strumenti, rimbalto nell'attacco, consegna James che deve provare a rientrare nella partita, Arresto e tiro, e canestro, il personale per Rodriguez, rimesso per Ravenna, James, difeso da Rodriguez, vorrebbe attaccarlo un po' sbasso, Ruzzini già pronto per l'aiuto, James fa saltare, il punteggio De Negri supera la metà campo, attacca, trova Signoni, c'è il Vittorra, ben difeso per una buon finna, ancora Vittorra, divenuto, si trova James, che segna! Errore però di Rush sulla rimessa, bravo Givens ad andarsi a riconquistare la palla, non si sono capiti, Rush e Roderick, gran recupero di Givens, importantissimo, a due minuti dalla fine, conquista un altro possesso per Ravenna, e James vuole attaccare Roderick che ha quattro falli, giustamente, lo attacca, va fino in fondo, e scena! Grazie a tutti!